Musica Hello guys, benvenuti in un'altra parte di Tech Hit, sempre con Luke e Shane In questa parte il nostro scopo non sarà scavare, non sarà uccidere, ma sarà costruire Cosa dobbiamo fare? Costruiamo una casa Dove poter... Maggiamo i nerd Esatto Ok, devi mettere ancora il tene a cucinare tu, eh, Luke Cosa? Devi mettere il tene a cucinare, c'è un forno vuoto Ah, è finito? Sì, non so Ok, ma prima dobbiamo fare una cosa Ho una cosa da fare io Esattamente Volevo fare la sega, aspetta Ok, fammela fare, dammi io Te li dispongo nella casa per farti vedere come si fanno Faccio un basso Ok Sì 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 Basta Sì, così si fa Ok, oggi costruiremo un'accento molto importante Ok, creato I miei piedini Ok Sai che hai fatto? Mi sono fatto i piedi di leather E adesso abbiamo una Iron Herzl E poi la crossbow sai come si fa? No Mi dispongo qua sopra, la fai tu Ok, e dato che vi facciamo vedere cosa sapevo questa bellissima Adesso la crossbow ci vuol, cioè, costa Iron ogni Questa bellissima sega combinata a un blocco Così si fa Ci permette di non fare un cazzo Che devo creare cosa che tagliava No, no, con quella la si sega il blocco Ah, ok Non sega questo tipo di blocco, allora Fuck Adesso vediamo... Oh, vogliamo farlo Ah, per sbaglio Ho messo a cucinare là il carbone col carbone È diventato fuori una specie di miscela Diventato fuori olio Una specie di miscela Ho risposto come Luke mi ha detto di mettere Non è successo nulla Così si fa Evidentemente stai sbagliando Evidentemente Aspetta, vado a ricontrollare Controllo io, va Evidentemente mi hai dato degli stick Ma evidentemente non servono gli stick Evidentemente Ah, scusa, erano i blocchi sani No, ho visto Non mi uccidere, per favore E abbiamo un crossbow Per ragazzi abbiamo un crossbow Fidiamo sto menu dello crafting che mi sta tutto sul cazzo E ci serve un tester per provare il crossbow Poi voglio fare la spada laser Vabbè, comunque sia Aspetta, cosa dire? Punto Trattino, punto, trattino Come ti è presente, vero? Facciamo fare anche Luke il trattino, punto, trattino Perché funziona a dardi ma non a freccia Lo so Ah, ok, sono io lo sfigato T'ho detto costa però C'è costo un bel po' fare e sparare Ok, tempo di costruire una casa Due volte, ecco Faccio un po' va La casa la costruiamo nella vallata O nel deserto che è più libero Dove lo facciamo? Vallata? Io lo farei qua sotto a valle Sì, ma è pieno di alberi comunque Eh, tra gli alberi è troppo feo No No Come no Per niente, perché ci complicherà la vita se vogliamo spanderci Ci servirà molto spanderci Immagina quanti cazzo di circuiti dovremmo costruire Ecco, Andre Magari senza sprecarli perché sono fatti in iron con questi Ah Un iron e una feather ognuno Rimetterei l'iron sopra la feather Ok, no Tutti e tu cazzo di colpa E fu così che l'aero non si vari Eh, non è che tanto No, lo sato poco, lo sato 4 Eh, ne fai 4, 4 cose ogni Ah, però dovevo fare la cesta di copper Ma voglio vedere se si può fare Le pepite di copper Se ci metti un copper solo vengono a fare le pepite Intanto vedo dove potremo fare una casa Ci servirà spazio Non so come si fa Eh, se si può fare qualcosa intanto col copper che abbiamo Magari si può fare qualcosa tipo una motosega No, una roba simile Eh, intanto facciamo Scusa, ma l'ensou che abbiamo fatto è una motosega, no? No Dove di la parte motrice E una sega basta Sì, vabbè, ma come sia funziona, come sega Sega ascia, cambia poco Comunque ci metterà massimo un secondino in meno Vabbè Ok Sto rivetendo a rompere alberi Li tagli in fretta? Era sarcastica, nel senso che mi sto rompendo le balle Ma li tagli in fretta qualcosa? Sto usando un'ascia di roccia, cosa pensi che stai usando? Ah, già Lenzo, le c'è di nuovo tu No, non ce l'ho io, eh Dove non è stata la cesta, allora Ne porto una Arrivo Dove sei? Davanti casa Vieni Funzionavrete come... Vediamo se funziona Se no bestemmieremo No, tagliare normale Fuck Ok, sei tanto per tagliare i blocchi, allora Aspetta che mi vado a fare una show E calcola che non ho appena fatto altre Ne abbiamo tre adesso di ste cose Di cui non ce ne facciamo attualmente un cazzo Aspetta 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 Ehm... Lo faccio in aero Ok Ok Ma sono già un po' di spazio Ci crede che... Ormai non si vede neanche già più perché ormai è già... Deforestato già tutto io Ehm... Che ho messo No, figliati, ancora un po' di spazio Ci vuol dire qua, la facciamo qua, esatto qua in questa pianura Ehm... Una mela Ehm... Sì, ne abbiamo già un po' Back in vices I want the apple La mia mente è baccata, sta già formulando un sacco di nomi idioti per questa parte Stai formulando nomi idioti? Sì, deforestazione I trent non sarebbero contenti Ahhhh Beh no, in effetti non sarebbero peninati contenti Ma comunque sarebbe ente Eh, ente, giusto Aspetta, che definizia accetto? Un ente o un threat? Sono due bestie... Trent, francamente non l'ho mai sentito Sì, sì Ente sarebbe l'albero vivo I trent Allora, qua già abbiamo una bella zona Guarda Qua in questa vallata possiamo fare Ok, il trent è un fiume in Inghilterra Ahahahah Hai cercato su Google, vada Minchia, se trovassi col programmino per mettere... Con tutte quante quelle musiche di tipo... Non... Non ce l'avrei messo Non ce l'avrei messo Tranquille su Google Dovrò trovare con un po' camionere Dovrò trovare con un po' camionere Andrò a prendere un po' di cibo, 6 Abbiamo detto Facciamo una farm Facciamo una farm Facciamo una farm Abbiamo fatto una farm Abbiamo dei semi Facciamo che vengo fuori con delle ossa e... Se costruiamo la casa Cazzo di farm Facciamo la mettermi in mezzo al cazzo Me la facciamo sotto terzo Facciamo una... Sopra si è anche la casa con tutte le ceste roba simile ok intanto e raccogli ci usare con la balassi di sei minuto usiamo la sull'erba cazzo ciò nasce di fiori posso rompere stile ai vari segni io rompo accogli i semi rompendo stessi milano letto ma uscito semi roba stramba ero anche a me roba flax si strano vedremo dopo avremo farmi di più cosa parto o mila questo class c'è stata la freccia del video maxi non viene altro sono volando dei delle frecce non so da chi da dove da quando ok la vista o la mia maestra c'è stata una battaglia molto impari uccidendo i colpi però ci stavo per morire che noia la fame ok cominciamo a costruire cominciamo a costruire ok guarda che bello e adesso con tutta la linea che abbiamo raccolto ci costruiamo allora aspetta esattamente un enorme rettangolo buongiorno tuttana agli angoli ovviamente chi è stata la tuttana ad averlo fatto voglio un nome mi è arrivata una freccia che cosa stai facendo? guardiamo con molto interesse il Luke nel suo da farsi non l'ho capito vabbè io raccolto ancora gli alberelli qua andavo lavora magari lì aveva tirato il cazzo però se qualcuno ha capito cosa sta facendo il Luke me lo può dire perché non lo sto capendo se tu hai capito cosa sta facendo il Luke manda un messaggio al numero sovrimpressione spesi per favore costo farmi significarmi ah ok oh managgia cosa ho sbagliato eh sì infatti ho sbagliato aspetta fermo non andrà avanti 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 sono morto quindi no la terapia del cavolo tuoi te l'hai fissato serato brutta e ai ai brutti affari con la mafia aiutami verso dove lo sento ok però qui viene ed è vero via lascia stare la mia linea kai e lo già castato tutto quanto legna tic prendere ci sono ancora tanti alberi contorno ora d'altro che non sa facciamo niente stai che stai girando attorno se come certo sento un non slenderman tanto fissando gli enderman per facendoti menare e non piangere dalla mamma ecco adesso raccogli raccogli un po' di legna come non l'avessi mai fatto insomma una cosa completamente nuova ma non c'è più con me quell'enderman non c'è più con me vai but 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 tanna o questo caso p Infarto di cuore Infarto di cuore Infarto di cuore Cosa è successo? Allora immagini la scena Io vengo qua Rompo l'albero Entro dentro l'albero così Lo rompo verso l'alto Sono dentro quest'albero Mi giro c'è sto Slenderman Che c'ha un cazzo di blocco di ghiaia in mano Che mi sta per picchiare Col blocco di ghiaia Col blocco di ghiaia E la fine di ghiaia Non arriverà E tu hai avuto paura Cazzo mi ha perso uno Slenderman Così puramente a capocchi di cazzo Non ne avrei mica raccolto troppo di legno Che cazzo vuoi ho combattuto Senti Ho fare con la mala Come di tutto Però me la sono anche a venderti Che spezzi di merda E che peccato Ti vuole che cominciare a lanciare in giro Lo ottieni Luke tieni Perché sta rompendo Che ho capito che savo cosa avevo sbagliato Hai sbagliato tutto No solo di uno Tieni Luke Allora l'ha messo a posto Quindi qua Tre Ok 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 A posto No a posto Possiamo iniziare a costruire Sì Yeah Allora comincio Questa sarà la porta Tanto fai qua la base Mi piace come casa abbastanza grande Sì Chi è stato? Ho nessuno che esiste Ok E' stato tanto la mia impressione Ok Ok mi serve Non trasformare tutta la legna che hai perché Tanto di qua poi andrà alzato Tanto l'ho già stato formato prima Quindi Troppo colgolto legno Ok Decisamente Gli attenzionamenti Gli attenzionamenti Se non sono la protezione Non a cazzo Fammi ta fammi ta param Senza precisino Fai così direttamente Avremo le tombe sotto il giardino A posto Avviso che se vi farò un cane quello lì morirà e ci sarò la tomba per forza Ok Di quanto alzo? Di 4 In modo che abbiamo il tetto che non ci sbatte contro la testa Aspetta 3 Aspetta Cos'è? Come ho fatto qua Leisci sarà il vetro? No come pieno terra Ok Ma puoi fare i miei buchi se voglio mettereci dei vetri E poi così Comprensibile Vabbè ovviamente semmai poi qualcosa non Da fissare tipo magari qua tutta la base la faremo in legno poi chiariamo Vabbè poi vediamo Tanto basta avere intanto una base a fanculo Una casa base Semmai poi quando finita la base senza il tempo interrompiamo e poi finiamo e poi continuiamo perché qua è veramente la lavoro Quindi ragazzi direi che è meglio salutarci qua perché... Il zombie sta bruciando Ok Ok ragazzi noi interrompiamo qui la parte E ci vediamo al prossimo quando la casa sarà completata al 100% Qui da Shen Io sono a livello... Io sono a livello 3 Io sono a 6 Qui da Shen Ah già E da Luke è tutto Bye bye Ciao Ciao Ciao